Buongiorno, posso aiutarla? La dottoressa Morelli? È di qua. Eh, sono io. Grazie. Prego. Salve. Salve. Arturo Cavalieri. Ah, sì, ciao. Molto piacere. Piacere a me. Stiamo coltivando la materia prima. Ragazzi, lui è Arturo, il nostro nuovo insegnante di cucina. Ah, piacere Luca. Noi qui facciamo cucina di secondo livello, ma lei è un insegnante del secondo livello. La data in nascita? 27 luglio 75. Il luogo? Sì, dai Federico, avremo tempo poi per conoscerci meglio. Buongiorno, sono Sandra. Molto piacere. Molto piacere, Sandra. E tu? Eh, no, per lui il contatto fisico non è il massimo. Vero Guido? Vero. La mano è piena di germi e trasmette malattie. Scusi, l'avevo chiesto se lei è del secondo livello. Non mi ha risposto. No, 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 lui è del massimo livello. È uno chef famoso, allievo del maestro Celso Conti. Sai che qualcuno qui ti ha googolato? Sì, ha lavorato a Londra, New York e Parigi. Tre stelle Michelin è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melanco. Vabbè Guido, poi ci raccontrà a lui. No, no, lascialo continuare, si è informato bene. Sì, inoltre è stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. La sua ultima condanna risale al 2017. Nell'ambiente è noto per il suo carattere impulsivo. Va bene, basta, basta, basta. Hai sentito che cosa ha detto la dottoressa? Nell'ambiente fa parte del passato, ecco il passato ormai. Grazie. Grazie.